Benvenuti e bentrovati al corso in cui si parlerà di Genesa Crystal. Abbiamo deciso di creare questo corso proprio per chiarire che cos'è la Genesa, come si usa, quando è nata, chi l'ha inventata e è proprio per passare un messaggio sul corretto utilizzo della Genesa, che è uno strumento eccezionale ma che purtroppo spesso viene usato erroneamente, creando degli squilibri energetici molto forti. Quindi in questo corso parleremo proprio delle sue capacità, delle capacità della Genesa Crystal e dei reali impieghi che si possono utilizzare per la Genesa, perché purtroppo, come tutte le cose, è stata un pochino storpiata, è stata un pochino, sì, distorta la vera funzionalità della Genesa. In questa introduzione, questa è la prima lezione, in questa introduzione parliamo proprio delle origini della Genesa Crystal, quindi parliamo proprio di chi l'ha inventata e di che cos'è. La Genesa Crystal è stata inventata da Derald Langman, ok? Che proprio fondò la Genesa Foundation, che è una fondazione che si impegna nella ricerca di soluzioni per far prosperare la vegetazione in Sud America, in modo proprio da poter sfamare la popolazione sudamericana. Infatti, grazie alla Genesa, ci è riuscito, ok? Il nome Genesa deriva da Gene Sud America, quindi Gene, la S di Sud e la A di America, Genesa. Langman è famoso per aver scoperto che, piantando le piante di sesamo in maniera circolare, queste evitavano che durante le piogge intensi si contaminassero con i geni delle piante circostanti. Era un problema molto forte e lui ha studiato questa tecnica di piantagione particolare. Questa tecnica, tra l'altro, prende il nome di Circle Gardening ed è proprio grazie a questa sua invenzione, a questa sua scoperta, che si è capito come sfruttare al meglio il potenziale di ogni pianta e quindi di ottenere il massimo da ogni piantagione. Infatti, anche l'Università di New York, però in un tempo successivo, si è dedicata a studi su questo Circle Gardening e ha effettivamente scoperto che le piante che venivano piantate in questa maniera, quindi in circolo, non solo appunto evitavano la contaminazione dei geni con le altre piante, ma che contenevano quantità notevolmente più elevate di potassio, di fosforo e di nitrogeni. Dopo essersi concentrato quindi sul problema delle piantagioni, ha cercato una soluzione appunto per migliorare proprio l'agricoltura in generale e ha studiato la Genesa Crystal, che è uno strumento che l'ha aiutato notevolmente, ha aiutato lui ma anche tutti quanti, insomma, tutti coloro che ne hanno giovato, a migliorare appunto le coltivazioni. La Genesa Crystal è una struttura geometrica, è fatta di quattro cerchi, ok, che si intersecano in dodici punti, fino a formare una sfera, ok? Quindi voi prendete come se aveste quattro cerchi e questi quattro cerchi li dovete incastrare tra di loro, in maniera tale che si incastrino in dodici punti e che formino una struttura sferica. Non solo, la forma così ottenuta, quindi nel momento in cui si sono incastrati questi quattro cerchi, nei dodici punti, forma delle geometrie che rendono possibile la vita nell'universo, ok? Quindi sono i cinque solidi platonici, il fiore della vita, il cubo di Metatron, ok? Infatti, gli studiosi di geometrie sacre e di geometrie, insomma, hanno collegato che la vita e l'universo hanno le loro fondamenta in queste strutture geometriche, che si ripetono all'infinito in ogni cosa esistente e dirigono energia universale, energia divina e vitale in maniera coordinata a sostegno di tutta l'esistenza della vita e creano prosperità. La forma della Genesa Crystal è perfettamente allineata con la natura e quindi genera un notevole vortice di energia che amplifica le intenzioni di quello che si trova in sua presenza. Le intenzioni, ovviamente, intendiamole anche proprio come scopo, no? Quindi nel momento in cui io adagio una Genesa in un campo coltivato, le intenzioni sono lo scopo di quel campo, per cui non so se è coltivato a grano, le intenzioni del grano, ok? È una vera e propria antenna, anche se di forma sferica. Questa antenna attrae, ma non solo, pulisce e amplifica l'energia delle cose con cui ha contatto il famoso campo di grano, ok? Perché si chiama Genesa Crystal? Allora, abbiamo detto che Genesa è generato da Gene e poi la S di Sud e la A di America e da qui prendiamo Genesa. Crystal. Crystal perché la Genesa è in grado di creare un vortice energetico vitale continuo, come abbiamo detto, essendo una geometria sacra, riconducibile a tutte le altre geometrie scoperte. Inoltre, ha la stessa possibilità di programmazione secondo un intento come ce l'hanno i cristalli. Quindi è collegata ai cristalli, proprio al quarzo rosa, all'ametista, ok? Per intenderci, quelli sono i cristalli, le pietre dure. Perché può essere programmata secondo uno specifico intento. Può essere un intento di guarigione, può essere un intento di abbondanza, può essere un intento di protezione, può essere un intento di pace, ok? Quindi, allo stesso modo con cui io carico un cristallo, posso caricare la Genesa Crystal. Però, la differenza tra il cristallo e la Genesa qual è? La Genesa è molto più forte, è molto più potente. La Genesa ha una capacità molto più immediata e potente di realizzare, o comunque di andare a registrarsi sull'intento che le abbiamo caricato. Quindi, il suo primo utilizzo è stato proprio quello di l'impiego nelle coltivazioni. Si è visto che adagiando una Genesa del giusto diametro in un campo coltivato, faceva in modo che questo campo riuscisse meglio, ok? Sia in termini di quantità che in termini proprio di bontà del prodotto coltivato. Ovviamente, la Genesa, se può così tanto in uno spazio aperto come un campo coltivato, immaginate quanto può in casa. Per cui, avere una Genesa all'interno della propria abitazione trasforma l'aria di casa, perché è proprio un vero e proprio condizionatore dell'energia, ok? Quindi, trasforma l'aria in l'aria di casa e la fa diventare più vivace, più vitale, più efficace, più accogliente, più amorevole, ok? Protegge, protegge anche dalle negatività, quindi dalle energie basse, da quelle energie stagnanti e purifica proprio l'ambiente. È ottimale da tenere in casa. Certo, ok, bisogna poi seguire delle regole che nel corso che stiamo andando a seguire, stiamo andando a sviluppare, vi verranno fornite. Non sono delle regole ferree, ovviamente, però sono dei consigli di utilizzo e proprio delle guide, ecco, ok? Parliamo proprio del raggio di azione di una Genesa. Allora, una Genesa del diametro di 90 cm circa, quindi una Genesa abbastanza grande, perché prendete la sfera e dovete misurare 90 cm di diametro, va ad agire e a migliorare l'energia nel raggio di azione di circa 4,5 km, ok? Quindi un'area molto vasta. Il diametro di 30 cm, che di solito sono le Genesa che teniamo in casa, quindi quelle che possiamo acquistare, quella che potete acquistare anche in combo con questo corso, che creiamo direttamente noi e vi forniamo. Ecco, quelle Genesa lì, quindi del diametro di 30 cm circa, agiscono su un raggio di azione di un chilometro e mezzo, quindi un chilometro sferico, ok? Immaginatelo quindi proprio a maniera sferica, ok? Per cui non solo è utile a voi, ma è utile proprio a tutta la zona intorno a voi. Immaginate se in ogni casa ci fosse una Genesa Crystal. Quanto, una volta programmata correttamente, perché poi è importante anche appunto imparare a programmarla correttamente, ma quanto proprio tutto l'ambiente circostante potrebbe trarne un beneficio veramente efficace ed efficiente, ok? Chi può trarre beneficio dalla Genesa Crystal? Tutti, tutti. Quindi esseri umani, esseri animali, piante, tutti. E anche le energie proprio, quindi tutte quelle cose che noi non possiamo catalogare in una categoria appunto, ma che comunque traggono del beneficio dal contatto, comunque dalla vicinanza della Genesa Crystal. Quindi viene usata dai guaritori per amplificare le loro intenzioni, le loro capacità di guarigione. E viene usata dai giardinieri per aiutare la crescita e lo sviluppo delle loro piante. E' utile per aumentare il flusso di abbondanza, ok? E poi faremo tutto un discorso però su quello che è l'abbondanza, ok? Anche economica. E' utile per tutti coloro che hanno il desiderio di attrarre nella propria vita amore, pace, armonia, salute. Come vi dicevo prima, se tutti avessimo una Genesa nelle nostre case potremmo partecipare tutti insieme alla guarigione del nostro pianeta. Solo averla, solo possederla, solo tenerla in casa senza fare nulla aiuta già a purificare e a bilanciare le energie presenti appunto in casa e quindi presenti sulla terra. Perciò tante più Genesa ci sono in giro, in circolo, tanto più questo potere di purificazione e bilanciamento sarebbe amplificato. E' uno strumento grandioso attraverso il quale l'universo e le energie possono lavorare per riportare pace e armonia su questo piano 3D, ok? Su questa nostra realtà 3D che noi viviamo in 3D, su questo piano terreno per parlare un linguaggio un po' più fruibile da tutti. Per quello io sono molto, diciamo, attratta e affezionata alla Genesa perché effettivamente ho potuto riscontrare il suo grandioso potere. Bisogna però appunto, come vi dicevo, rispettarla e rispettare i suoi reali intenti. Quindi parliamo poi della questione grandezza. Allora, la Genesa si può fare di tutte le grandezze, ok? Io ne ho viste veramente di ogni in circolo. Dai ciondolini alle Genesa megalodontiche dove addirittura ci si può stare in piedi. Personalmente io ritengo che per un uso personale, quindi proprio per la purificazione di un ambiente casalingo, la Genesa ottimale è la Genesa di 30-32 cm di diametro. Poi, quelle enormi, purtroppo non tutti hanno lo spazio per tenerle, sono fantastiche. Avere la possibilità di meditare dentro una di quelle Genese enormi è un'esperienza veramente unica, però effettivamente non è possibile. L'esperienza della meditazione comunque è altrettanto piacevole, anche con una Genesa da 30 cm. Per quanto riguarda diametri più piccoli, sì e no, nel senso che il ciondolo di Genesa naturalmente deve essere un ciondolo fatto ad hoc, quindi purtroppo non tutti quelli che io ho visto in commercio rispettano proprio i parametri della geometria sacra, ci sono proprio delle proporzioni da rispettare. Ma se il ciondolo è fatto ad hoc è comunque molto utile perché aiuta a purificare l'energia all'interno della nostra aura, quindi sicuramente avere un ciondolo di Genesa fatto ad hoc tutti i giorni con sé è utile perché ci aiuta a schermarci dalle energie basse con le quali veniamo sicuramente in contatto durante le nostre giornate e ci aiuta a riequilibrare le nostre stesse energie proprio all'interno della nostra aura, quindi proprio corpo fisico e aura, ok? Molto limitato come impatto però è utile. Le Genesa di circa 16-20 cm sono un po' piccoline, ok? Difficilmente riusciranno a purificare e riequilibrare proprio tutte le energie di una casa, magari sono utili per quella stanza lì, ecco io le vedo un po' più per quello, però sono comunque, vanno comunque bene. A mio avviso l'Optimus, l'Optimum sarebbe veramente la Genesa di 30-32 cm di diametro perché quella è la sua forma migliore per un ambiente casalingo, ok? Poi, personalmente ritengo che le Genesa fatte con le bacchette un pochino più sottili, quindi massimo un 2 cm di larghezza, siano quelle migliori perché le energie fluiscono bene al suo interno, quindi il vortice che si crea all'interno della Genesa riesce a fluire bene, mentre quelle Genese che io vedo con queste stecche che sono molto più grosse, e quindi anche gli spazi all'interno sono molto più ristretti, molto più ridotti, ecco quelle secondo me non sono ottimali, però è proprio, questo è un mio personalissimo avviso. Con questo abbiamo concluso, diciamo, la prima lezione, l'infarinatura, ok? Quindi vi rimando poi alla prima e ufficiale lezione sulla Genesa Crystal. Nel frattempo vi ringrazio per avermi ascoltata e vi rimando alla prossima lezione. Buona giornata!